ci ritroviamo in compagnia di fiorella mannoia ben trovata fiorella grazie a dimostrazione che le canzoni sono il motore della tua rotta artistica ti ritroviamo a sanremo un po come accaduto con che sia benedetta sette anni fa spinta dal messaggio del brano che scelto di presentare dal titolo mariposa cosa hai voluto raccontare mariposa è un manifesto abbiano io lo è per me sai quando fai delle canzoni poi speri sempre che gli altri li apprezzino spero che lo diventi ma il manifesto femminile come dire un racconto di come siamo di come siamo state parte dalla strega in cima al rogo per come saremo e soprattutto è sull'orgoglio di essere donna ecco non vittimistico e poi no non è vittimistico anzi possiamo anche come dire sottolineare anche gli aspetti negativi no perché in fondo mega siamo delle sante possiamo essere terribili e per cui c'è tutto dentro però finisce con l'orgoglio della dell'essere dell'essere donna un brano che parla di donne ma che immagino si rivolga a tutti uomini compresi come immagino tu ami raccontare e ricordare spesso sì certo che sì adesso al di là della canzone sono presidente onorale di una fondazione che si chiama una nessuna centomila che è citata anche nel testo il 4 e il 5 maggio raccoglieremo fondi per i centri antiviolenza ma è un percorso abbiamo deciso di intraprendere questo percorso insieme agli uomini perché siamo tutte e due uomini e donne vittime dei nostri stereotipi dobbiamo cercare di scardinarli ma lo possiamo fare solo insieme e a proposito di donne quest'anno il festival si arricchisce di un cast di donne molto forti al di là delle canzoni che so che non hai sentito a rappresentare la storia con te c'è Loredana Bertè poi artiste affermate come Annalisa Alessandra Moroso ma anche tante giovani talentuose Big Mama Angelina Mango Rose Villani che vorrebbe fare una cena con te mi diceva in un'intervista e Clara che ha vinto saremo giovani ecco nella tua canzone racconti declinazioni di donne diverse ma anche un po' il festival di quest'anno il cast racconta le stesse declinazioni non era naturalmente non era voluto è tutto casuale ma sicuramente mi piacerebbe sapere che la mia canzone rappresenta tutte ecco quello sicuramente e con mariposa tiri a propri di sonorità che avevi già frequentato in onda tropicale e sud ti chiedo quanto sono stati importanti per il tuo percorso quei dischi e che tipo di lavoro c'è stato proprio a livello di sound guarda importantissimi il primo onda tropicale mi ha dato la possibilità di conoscere la cultura di un popolo che è quello brasiliano con le sfaccettature della sua musica perché qualsiasi musicista del mondo almeno una volta è passato dal Brasile perché ci sono delle sonorità che sono particolarmente solo loro ed è stato molto importante per me poi collaborare con tutti quegli artisti perché poi è stato un disco di duetti ho avuto il privilegio e la fortuna di cantare con i più grandi artisti brasiliani viventi e quello è stato un episodio che mi ha portato poi a non abbandonarlo mai più perché io ho una casa in Brasile per cui questo legame è rimasto continua fino ad oggi invece sud mi ha aperto un'altra porta a sconsulta mi si è aperta la porta dell'Africa che è un altro continente meraviglioso il continente dell'Africa e della sua storia è stata un'esperienza meravigliosa perché sono venuto a contatto con tanti musicisti anche lì africani che mi hanno raccontato storie del loro paese che noi non conosciamo abbiamo dedicato tutto il disco a Thomas Sankara che è stato presidente del Burkina Faso assassinato per cui lì e anche lì mi si è aperto un altro mondo aiutata da Carlo il mio produttore nonché mio marito percussionista per cui sono venuta a conoscenza altre sonorità altri tamburi altre altre culture e proprio con Carlo prima parlavamo e mi ha dato il permesso di potertelo dire non è un'eresia ma è un po' come se mescolassi con Mariposa la canzone d'autore con il Carnevale di Rio e mi incuriosisce chiederti se questo tappeto sonoro così ritmato elegante sensuale possa rivelarsi in realtà funzionale per arrivare a un pubblico più vasto in un contesto e in un momento storico dove magari ci si sofferma più sul suono e poi piano piano arriva anche il testo sai io ho una come dire ho una storia ho un'età per cui sono sempre stata soprattutto attenta ai testi ho basato tutta la mia carriera sull'interpretazione dei testi e ho i testi sono o cantando quei testi e quei concetti io riesco a condividerli interpretarli se no io non ce la faccio non sono capace a cantare a fare virtuosismi vocali ho bisogno di un contenuto per cui continuo a scegliere le mie canzoni con questo criterio e non poteva essere che così ma riposa è un po' diciamo che è un testo importante che stavolta sta dentro un ritmo gioioso ecco la canzone è gioiosa non è la solita ballad alla quale magari la gente è abituata con me stavolta è una cosa diversa e proprio per questo è divertente e proprio per questo mi divertirò su quel palco a cantarla ecco e per concludere Fiorella quest'anno ricorre un'annata di festeggiamenti per te un anniversario di una canzone importante i 40 anni di come si cambia che hai presentato proprio a Sanremo nel tuo secondo festival quello che magari in qualche modo ha cominciato a dare forma al tuo percorso che rapporto hai con il cambiamento? ma un bel rapporto io credo che un artista deve cambiare è proprio frutto del suo lavoro non si possono fare le stesse cose per tutta la vita ti devi lasciar contaminare sentire intorno che aria tira mi piace cambiare quest'anno abbiamo fatto una tournée pianoforte voce con Danilo Rea non solo delle candele siamo andati contro ogni tendenza e questa è la sfida ecco l'artista vive di sfide io credo insomma che nel corso della mia carriera ne ho portate avanti tante spero di continuare così anche Mariposa è una sfida grazie Fiorella per questa bellissima chiacchierata per il messaggio che porterai su quel palco e buon festival grazie grazie infinite